I rumors sul televoto truccato al GFVIP non paiono placarsi. Di fatto appare quanto meno strano che l'esercito di fan di Andrea Damante non abbia superato i supporters di Stefano Bettarini. Piovono dunque gravi accuse contro il meccanismo del televoto e tanti, finita la puntata, hanno chiesto a gran voce l'annullamento dell'eliminazione dell'ex di uomini e donne. Molti hanno reso noto che l'applicazione del televoto del GFVIP si è bloccata in modo anomalo, diffondendo testimonianza di ciò per l'immagine del proprio smartphone che riportava la scritta. Spiacente, l'operazione non si è conclusa correttamente. Altri hanno postato l'immagine delle percentuali del televoto che dava in vantaggio il DJ veronese. Insomma, come stanno davvero le cose? Andrea Damante sembra comunque non voler entrare nel vortice delle polemiche e dai social ringrazia tutti i suoi sostenitori e intanto continua a far musica e coccola la sua Giulietta.